Una nottata trascorsa da un bar all'altro, forse l'eccesso di alcol e forse qualche parola di troppo, avrebbe fatto aizzare un gruppo di giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, che se le sono date di santa ragione. È successo nella centralissima piazza Cavour, nella frazione marittima di Scoglitti, dove cinque giovani, di cui quattro vittoriesi e un marocchino, sono rimasti coinvolti in una rissa, fino a quando l'arrivo della polizia e dei carabinieri non ha scongiurato il peggio. Le forze dell'ordine hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del PON Sicurezza per lo Sviluppo e raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni per meglio ricostruire la dinamica di quanto accaduto e addebitare le responsabilità ai cinque ragazzi. Uno ne avrà per dieci giorni, visto che gli sono state riscontrate lesioni all'arcata sopraccigliare destra e traumi toracico e al ginocchio sinistro guaribili in dieci giorni. I giovani sono stati tutti tratti in arresto. Si tratta dei due fratelli Cultraro, Davide e Alex, di 21 e 19 anni, del ventenne Giovanni Denina, Giuseppe e Giorgio Massimiliano Giannone, di 21 anni, e di un tunisino di 23 anni. I cinque sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.